La Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse sulla scia di un sensibile allentamento delle tensioni sulle condizioni economiche di Eurolandia. I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale restano quindi fermi al minimo storico dello 0,5%. Dopo il taglio di un quarto di punto lo scorso 2 maggio, gli analisti non attendevano sorprese che invece potrebbero arrivare dalle proiezioni economiche su crescita e inflazione per il secondo trimestre di quest'anno. Il presidente della BCE Mario Draghi dovrebbe confermare la recessione per quest'anno dello 0,5%.